Sempre molto modesto, Arvid Limbland, una gara in cui la prima cosa che è accaduta a Brando Badoer ha stallato in fase di partenza, poi il ragazzo Veneto, come vi ho raccontato, ha compiuto una rimonta che lo avrebbe portato sicuramente a lambire, se non altro all'ottavo posto, con il passo che aveva. L'Imbland, come ha detto, prende il comando, poi va per circa 5 giri, tenta di non forzare tantissimo proprio per gestire le gomme, poi ricostituisce il gap che aveva con Ugo Ciucco. Molto deludente già in queste fasi, mentre stiamo vedendo le lotte tra Ivan Dominguez e qui c'è Vittoria Blochina che va in testa coda all'uscita dell'ultima curva. Qui il problema che elimina Jack Beaton e il dominio incontrastato di Lindland, queste sono le fasi in cui Ugo Ciucco sembra potersi avvicinare. Poi il bel duello tra la Corte e Rashid Aldaeri, l'errore di James Wharton che perde la posizione e sparisce dai primissimi. Lo vedete Wharton alle prese anche con un problema tecnico. Ecco poi la vittoria di Arvid Lindland, netta.